Slitta la riapertura delle scuole in Puglia, la giunta regionale ha approvato il nuovo calendario scolastico, vincolando però l'efficacia all'emanazione dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione. Si torna tra i banchi il 24 settembre dopo le elezioni regionali fissate per il 20 e 21 settembre. La chiusura invece è prevista per l'11 giugno 2021. Le scuole d'infanzia invece potranno proseguire le attività sino al 30 giugno 2021. Slittamento inevitabile dunque in vista delle regionali 2020 che in alcuni comuni coincideranno anche con le amministrative per l'elezione dei sindaci. Per quanto riguarda le festività, in tutte le scuole le elezioni saranno sospese oltre che per le feste nazionali. Anche il 7 dicembre, dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 le vacanze natalizie e dal 1 aprile al 6 aprile 2021 le vacanze pasquali. Il presidente Emiliano inoltre ha stabilito che per la scuola dell'infanzia nel periodo successivo all'11 giugno 2021 può essere previsto che funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti sulla base delle effettive esigenze delle famiglie. Nelle scuole primarie e secondarie il periodo delle lezioni è determinato in 202 giorni.